Il tema di oggi è dedicato al tema della democrazia diretta in contrapposizione alla democrazia rappresentativa. Cercherò di sostenere che non c'è questa contrapposizione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa attraverso non un concetto chiave per il futuro, ma due concetti chiave per il futuro, due idee guida, due idee regolative per la politica che sono quella appunto di democrazia diretta e quella di Stati Uniti del mondo.